Sono molti coloro che con il ritorno alla zona gialla iniziano a sperare in un ritorno anche alla normalità e in tanti hanno già prenotato il pranzo di domenica prossima al ristorante. Bene la situazione nel Bassanese soprattutto per quei locali che lavorano con i clienti fissi, le storiche famiglie che la domenica si spostano come d'abitudine al solito ristorante. Se la passano un po' peggio invece quei locali che lavorano prevalentemente con il turismo. Ben accolta la zona gialla dalla categoria dunque anche se qualcuno ha deciso di tenere il ristorante chiuso per protesta come Roberto Astuni che ha stabilito di aprire il ristorante soltanto quando davvero non ci sarà più nemmeno l'ombra del covid fosse anche l'attesa pari ad un anno. Non possiamo riaprire a singhiozzo ci ha detto per poi magari richiudere fra due settimane. Un'altra storia particolare ci viene dalla trattoria Paeto di Cartigliano. C'è stata una cosa un po' particolare diciamo c'era questa incertezza se la zona gialla iniziava da domenica o da lunedì. Tanto fa che noi domenica pranzo avevamo già riempito il locale quasi praticamente con le prenotazioni già da venerdì. E poi c'era sto dubbio lunedì domenica, lunedì domenica e alla fine venerdì sera è uscito il decreto del ministro della salute. Abbiamo capito che era lunedì anche se il sospetto girava già da giornata. Per cui abbiamo dovuto disdire tutte le prenotazioni. Quanto tempo siete stati sul web? È una mezza giornata buona. Insomma questo tira e molla certo non ha aiutato nessuno. Per domenica prossima? Siamo già quasi al completo.